Tesoro! Ciao, Babi! Ecco, sono venuto perché mi fa piacere vederti ballare. Ah, non immagini quanto ne facciamo. Ah, sei incantevole. Oh, non è divino? Eh? Ah, sì, sì, è divino, non c'è dubbio, ma che ne diresti se... se cominciassimo con le nostre prove, piuttosto? Si sta facendo tardi, se da adesso? Sì, adesso, ah! 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 Grazie.